carissimi amici amiche benvenuti a questa prima puntata del ciclo di catechesi intitolato l'uomo il suo mistero con sottotitoli chi è da dove viene e dove va un ciclo di catechesi che appunto come già dice il titolo cercherà di farci approfondire questo mistero che appunto l'uomo e l'uomo è un mistero perché ha a che fare con dio è una creatura di dio e ben sappiamo che tutto ciò che a che fare con dio si chiama giustamente mistero c'è una realtà che si può conoscere evidentemente sulla base e sulla scorta di ciò che il signore ci ha rivelato ma evidentemente non si può comprendere perfettamente io amerei cominciare prima ancora dell'introduzione a con una citazione di un salmo un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso è veramente così figlioli miei cari penso che tutti abbiamo fatto esperienza nella vita anzitutto come spesso e volentieri noi stessi siamo un mistero noi stessi non ci conosciamo non ci capiamo non ci comprendiamo il livello poi sale quando entriamo a contatto con i nostri simili anche con le persone più care che rimangono sempre a volte in un aura di mistero noi non sappiamo non sapremo mai esattamente cosa passa per la testa e soprattutto per il cuore ci sta vicino come lui o lei percepisce le cose come le vede certo possiamo conoscere qualcosa sul noi e sul prossimo ma sempre entro certi limiti questo semplicemente per far comprendere che in che senso si definisce l'uomo come mistero ora quella antropologica questo è un ciclo di catechesi che diciamo così se volessimo inserirla in una branca della teologia dogmatica bisognerebbe metterlo dentro quella branca della teologia dogmatica che si chiama antropologia che ha evidentemente anche un equivalente nelle scienze umane antropologia dal greco antropos significa uomo e logos significa discorso è il punto di discorso sull'uomo la rivelazione dice molte cose sull'uomo noi sappiamo che l'uomo è stato messo al centro dell'attenzione alla dibalta in un modo però disordinato e malato dall'illuminismo in poi già prima ecco con la cosiddetta svolta cartesiana no è stata proprio la svolta cartesiana a invertire proprio invertire è la realtà è perché guardate che tutti quanti avranno sentito dire il famoso aforisma di cartesiano che cogito ergo sum le cose non funzionano così amici cari perché l'aforisma va invertito perché la teologia e la filosofia classica ovviamente illuminata dalla liberazione diceva sum ergo cogito cogito ergo sum è l'antenato storico dell'ideologia di quelle che si chiamano oggi ideologie cioè la realtà esiste in base a come io la vedo e a come io la penso sono io che determino la realtà cogito ergo sum ergo cogito dice esattamente il contrario il pensiero viene dall'essere e l'essere è ciò che struttura il pensiero non voglio entrare in disquisizioni troppo complicate questo è un ciclo di catechesi di vulgatie tutto però per dire che dall'illuminismo in poi diciamo così nel consorzio umano si è spostata l'attenzione l'asse dell'attenzione da dio all'uomo e con la chiara intenzione neanche troppo celata perché ai tempi della rivoluzione francese del terrore giacobino questo è diventato realtà l'intento era di cancellare dio dalla faccia della terra cioè dio è un ostacolo è un concorrente secoli e secoli di cristianesimo hanno come dire hanno oscurato hanno tarpato le ali all'uomo gli hanno impedito di realizzarsi di estrinsecarsi perché tutti questi precetti tutte queste leggi peccati le cose quindi i tabù quindi si viveva intorcinati in questo mondo religioso e l'uomo è cresciuto frustrato poi boh quindi dobbiamo liberarlo tutte queste cose fate che questo è detto in due parole tu dici che ce ne importa a noi non ce ne importerebbe niente se anche a livello ahimè ecclesiale non ci fosse stata la cosiddetta svolta antropologica chi conosce un po di teologia sa bene che un certo teologo da cui evidentemente il sottoscritto prende più di qualche distanza anche se è ancora uno di quelli che va per la maggiore nonostante sia abbastanza datato che carl runner il primo a coniare questo termine adesso vedremo che cos'è questo nella chiesa però adesso ormai anche negli ultimi anni è qui dalla dichiarazione sui diritti dell'uomo in poi c'è stata una come dire un una logorrea sull'uomo la sua importanza i suoi diritti poi la rivoluzione femminista la parità tra i sessi che ormai è un dato stabilito io che diciamo così questa cosa sia diffusa ormai in ambito civile è un fenomeno acquisito e come tutte le cose che si acquisiscono poi è molto difficile tornare indietro ma io sarei tanto curioso di vedere quanti cristiani quante cristiane e anche quanti uomini di chiesa prendono le distanze dalla cosiddetta parità tra i sessi quindi femministicamente se mi si passa il termine intesa perché femministicamente intesa significa che l'uomo e la donna sono due è come dire essere intescambiabili ciò che fa l'uomo lo può fare l'altro senza nessun problema non si tratta di pari dignità perché la pari dignità è un dato rivelato ed è un dato indiscutibile ma si tratta di intescambiabilità ma dopo la parità dei sessi non ci siamo fermati siamo andati sempre più avanti quindi ci sono stati dibattiti su che cosa significa l'essere persona sapete che adesso si ammazzano i bambini nel grembo della madre perché secondo qualcuno ma questa è la posizione farisaica che è passata e che ha potuto giustificare quella legge che qualcuno ahimè anche in ambito ecclesiastico osa definire accettabile non lo so se le mie informazioni sono sbagliate ma a me è arrivata questa informazione che è la legge 194 cioè l'embrione non è persona quella famosa espressione che usano è un grumo di cellule quindi se ammazza e se elimini un grumo di cellule mica stai ammazzando un essere umano per carità quindi parlate tanto dell'uomo anche a sproposito e le tecniche di fecondazione assistita quindi posso andare a fabbricare un uomo dentro una provetta si basta che prendo un po' di gameti e faccio un po' di zigoti e poi l'impianto 2, 3, 4, 5 in Italia c'è un limite ma fuori posso bombardare come voglio di quelli dati che c'è non tanto un e vabbè che gli fa basta però che poi papà e mamma siano contenti che finalmente diventano papà e mamma poi sono morti un bel po' di embrioni problemi ci sono forme di manipolazione genetica ancora adesso stiamo arrivando sempre oltre adesso con le moderne teorie del cosiddetto gender e della fluidità se io una mattina mi sveglio e mi sento donna problemi problemi io una mattina mi sveglio e mi sento donna quindi vado all'autogrill e vado al bagno delle donne sto esagerando un po' però per far capire insomma qui a forza di mettere al centro l'uomo ne abbiamo dette fatte di ogni c'è una ampia corrente anche ecclesiale adesso lo vedremo ovviamente sulla scia della svolta antropologica di Karl Rahner che ha messo al centro l'uomo che pensa che il compito centro e fine dell'azione della chiesa sia servire l'uomo io quando sento certe cose dico vabbè che il catechismo in esempio decimo è stato voluto mettere nel dimenticatoio ma io sapevo che chi deve essere servito è Dio deve essere servito l'uomo per carità capiamo bene il senso in cui sto dicendo questo è evidente che la chiesa svolge un servizio fondamentale per l'uomo però bisogna vedere di che servizio si tratta perché bisogna vedere se la chiesa serve a provvedere l'uomo di una serie di benefici temporali anche importanti per carità costruire ospedali costruire scuole aiutare l'alfabetizzazione e gestire la caritas queste sono tutte cose buone ma è questo il servizio primario che la chiesa offre all'uomo e deve offrire all'uomo punto interrogativo quanto di questa mentalità è entrata nella chiesa nella liturgia io invito io lessi quando usci introduzione allo spirito della liturgia dell'allora cardina Ratzinger lo lessi con molta attenzione allora ero affatto come dire poco sensibile a queste cose ma lì fu la prima volta che sentii dire dall'allora era un porporato insomma tra l'altro in via di quasi pensione però persona molto intelligente un teologo raffinato e che tra l'altro adesso non voglio certamente dire nulla era stato uno dei protagonisti del concilio era il consulente al concilio del cardinal Frings ha avuto sempre posizioni abbastanza moderate ma certamente era uno dei tanti teologi di quel grande filone della cosiddetta nouvelle teologie dentro la quale c'erano anche tanti modernisti vero che lui si è tenuto sempre su posizioni non estreme a caso della sua intelligenza e del suo senso di misura però in quel libro lessi che la messa come uscita dalle forme liturgiche era diventata antropocentrata e lo spiegava perché e per esempio in quel libro esortava per cominciare a correggere un pochino questa cosa a mettere almeno un crocifisso sull'altare anche quando l'altare è rivolto verso spopulum in modo tale che non ci sia una celebrazione dove lo sguardo dei presenti converge su chi? sul celebrante sul celebrante e non sul celebrato ma è chiaro che un atto di cioè la messa è il massimo atto di culto che noi possiamo offrire a Dio in questo mondo perché in essa si offre al padre l'unico sacrificio che gli è gradito offrire sacrifici a Dio è l'atto di culto per antonomasia ma a chi rendiamo culto a Dio durante la messa? a Dio a lui la messa non starsi a guardare in faccia un ministro che durante la preghiera di localistica anziché volgere in alto i nostri cuori come diceva in prefazio guarda in faccia l'assemblea e viceversa non l'assemblea guarda in faccia il prete ecco questo per inquadrare questo è una puntata introduttoria l'importanza di questo di questo tema che cosa è stata la svolta antropologica di Karl Rahner allora detto in termini molto esemplificati come sapete il mio stile nel linguaggio catechetico è quello di essere il più semplice possibile già mi sono concesso alcune licenze questa sera del tutto inusuali perché il compito di queste cose è aiutare qualunque persona anche la più semplice anche la più sprovvista da un punto di vista culturale di poter comprendere alcune cose credo che questo sia il dovere di un sacerdote non sono questi ambiti occasione per fare sfoggio di erudizione o di cultura quindi in termini molto semplici secondo quest'autore parlare di svolta antropologica significa il compito della chiesa sarebbe diventato non quello di mettere Dio al centro del suo pensiero del suo insegnamento della sua azione con tutto ciò che comporta per esempio lo splendore del culto la grande importanza per esempio della virtù di religione la prima e più importante manifestazione della virtù cardinale della giustizia perché regola ciò che è giusto nei confronti dell'altissimo il senso del sacro la chiarezza dogmatica l'attenzione alla verità alle verità dottrinali non per farne dei fetici fini a se stessi d'accordo ma perché da essi consegue poi tutta la visione e l'azione della chiesa tutto questo bisogna accantonare bisogna mettere al centro l'uomo l'uomo deve servire l'uomo la chiesa scusate la chiesa deve servire l'uomo parlare all'uomo adesso va molto di moda ascoltare l'uomo noi dobbiamo stare in ascolto un tempo la chiesa era mater e magistra il maestro non sta in ascolto il maestro insegna per carità se l'allievo o scolaro c'è qualcosa da dirgli glielo dice ma stare in ascolto nel senso di andare a la chiesa non apprende mi si perdoni forse qualcuno storcerà la bocca la chiesa non apprende la verità e la sapienza da nessuno essere umano l'apprende da Dio e la trasmette senza imporla ma la trasmette autorevolmente all'uomo non la impone ma la propone ma la propone in maniera autorevole non autoritaria ma autorevole allora sulla base di che cosa hanno giustificato ma com'è che adesso sono messi in testa questa cosa c'era il famoso principio dell'incarnazione dice scusate ma Dio si è fatto uomo in Gesù di Nazareth il fatto che Dio si è fatto l'uomo si è fatto uomo in Gesù di Nazareth manifesta la sua volontà di porre l'uomo al centro di tutto ora vedete nelle dottrine è un po' così è chiaro che c'è sempre qualche cosa di vero è vero che il verbo si è fatto carne è vero che facendosi carne il verbo ci ha fatto comprendere quanto l'uomo è caro e importante agli occhi di Dio ma proprio perché il verbo si è fatto carne l'uomo non si può né contrapporre e né tantomeno sostituire a Dio inoltre tutta quanta questa attenzione all'uomo l'ascolto ma noi di quale uomo stiamo parlando stiamo parlando del mito del buon selvaggio stiamo parlando della visione luministica dell'uomo alla Voltaire Rousseau cioè l'uomo è buono è bello sì vabbè c'è qualche difetto sì ma non troppi e dipendono semplicemente dai dai cattivi esempi se noi facciamo una bella operazione di repulisti di tante infrastrutture cose storte nel mondo vedrai come emerge tutta la bellezza dell'uomo quindi è un uomo quello illuminista non bisognoso di redenzione non c'è nessuna decadenza non c'è nessuna natura decaduta non ci sono dei problemi strutturali su cui c'è bisogno di un intervento salvifico non ci sono ma la Chiesa non ha mai insegnato questa visione dell'uomo perché l'uomo avrebbe potuto essere così e la testimonianza di questo è l'unica creatura che lo è stato che noi abbiamo visto fino alla fine cioè Maria Santissima i nostri progenitori lo sono stati per un certo tempo poi questa perfezione l'hanno perduta e non l'hanno persa solo per sé l'hanno persa anche per tutti i loro discendenti quindi la Chiesa ha una certa visione dell'uomo ben precisa dettagliata e dovremo andarla a vedere per comprendere bene chi l'uomo è agli occhi di Dio appunto da dove viene dove va quali sono i suoi reali problemi i più profondi quali le possibili soluzioni se ci sono e quindi come orizzontarsi scusate dentro questo grande mistero allora fatta questa introduzione che è sempre ovviamente necessaria nelle prime puntate di noi di Catechesi cominciamo a entrare nell'argomento prima domanda sono due chi è l'uomo e da dove viene ora chiaramente questo è un ciclo di Catechesi quindi noi ci basiamo sulla rivelazione e sul Magistero autentico della Chiesa che si è andato formando e strutturando anche su questo tema attraverso la risposta alle provocazioni continue e a volte incalzanti di varie eresie quindi questo ha fatto sì che il patrimonio antropologico se vogliamo chiamarlo così quindi ciò che la Chiesa sa conosce insegna sull'uomo e dell'uomo è assolutamente in grado di fronteggiare gli errori antichi e moderni ora la rivelazione che cosa dice la rivelazione sull'uomo numero uno dice subito che l'uomo è stato creato da Dio e qui sappiamo benissimo che oggi oggi non è un problema di oggi è un problema che ormai ha qualche lustro anche qualche più di lustro un secolo un secolo e mezzo ci sono state dentro questo grande movimento postilluministico delle dottrine che hanno negato la creaturalità del uomo quindi l'uomo non è secondo certe dottrine il frutto di un atto creativo di Dio creativo significa creaxio ex nichilo rei et subiecti come diceva San Tommaso da quella quina cioè creazione dal nulla della cosa e della sostanza che sta sotto la cosa quindi il racconto della Genesi parla chiarissimamente e attenzione che Pio XII avvertì chiaramente che nel libro della Genesi sono raccontati tutti fatti reali e realmente accaduti all'inizio della storia umana certo questo non esclude che la realtà di queste cose possa essere raccontata attraverso una veste simbolica cioè che l'universo sia stato creato letteralmente in sette giorni tutto può essere un po' difficile anche a luce delle conoscenze che abbiamo ma può essere che la creazione in sette giorni non designi l'arco cronologico temporale così come lo contiamo noi oggi quindi il cronos a cui noi siamo abituati ma essendo sette il numero della perfezione che cosa sta dicendo il creato è una realtà perfetta ciò che al termine di ogni giorno creativo tipo della Genesi dice Dio vide ciò che aveva creato ed era cosa buona fu sera e fu mattina giorno secondo giorno terzo giorno quarto giorno quinto giorno sesto giorno chiaramente quando si arriva alla creazione dell'uomo soltanto dell'uomo si dice l'uomo fu cosa molto buona ora la creazione dell'uomo come viene descritta che Dio soffia nell'uomo soffia Adam in ebraico viene da Adama che significa terra è Adama senza la re finale quindi tratto dalla terra però il racconto del libro della Genesi parla di questo fango che Dio prende e ci soffia sopra c'è l'uomo divenne e l'uomo divenne un essere vivente quindi che significa significa che c'è una parte di noi appunto quella prettamente spirituale che non soltanto viene da Dio ma è proprio creata direttamente da lui la componente spirituale ci dice anche il racconto della Genesi che solo per quanto riguarda la creazione della donna della prima donna fu tratta dall'uomo che è la famosa immagine della costola che viene aperta e Dio trae la donna dall'uomo e poi gliela presenta su questo tanti padri credo che fosse Sant'Anselmo quello che c'ha credo che fosse Sant'Anselmo da Osta non sono sicuro però faceva questa immagine bellissima allora Dio il primo uomo l'ha creato lui la prima donna l'ha creata dall'uomo quindi l'uomo da Dio la donna dall'uomo tutti gli altri esseri umani come vengono Dio crea l'anima ma vengono dall'uomo e dalla donna che cosa ci mancava uno lo crea a Dio e questo l'ha fatto l'uomo lo crea a Dio e questo l'ha fatto la donna l'ha creata dall'uomo e questo l'ha fatto tutti gli altri esseri umani vengono dall'uomo e dalla donna che ci mancava ci mancava un uomo che fosse tratto da una donna ci ricorda qualcosa che è successo nell'opera della redenzione che è venuta prima una donna e poi il verbo si è fatto carne in quella donna ed è nato dalla Vergine Maria tratto dalla Vergine Maria non nato dalla Vergine Maria mancava solo questa ecco è stata come dire l'inversione di ciò che era stato fatto nell'opera della creazione appunto per distruggere il male accaduto al genere umano nella prima creazione e dare il via alla nuova creazione realizzata dalla coppia Gesù e Maria l'uomo fu creato secondo il racconto della Genesi non soltanto come cosa molto buona ma come cosa perfettissima e messo vedremo poi nel corso dei capitoli dove si approfondiranno queste cose da Dio in una condizione veramente ultra privilegiata quindi questo uomo perfetto scusate la breve pausa di riconnessione da questa condizione di perfezione cade cade e decade tutti quanti conoscono il terzo capitolo del libro della Genesi il racconto del famoso peccato originario qui rimando il ciclo di carichese ormai fatto due anni fa iniziato due anni fa che ha raccolto tutti quanti gli studi tutte quante le diciamo le dottrine le teorie elaborate fin dai tempi lontani della patristica circa la grande domanda ma si può sapere che è successo perché il libro della Genesi al terzo capitolo racconta il peccato originale come andare a cogliere il frutto proibito ok dall'albero della conoscenza del bene e del male e da qui c'è la condanna arcaica della mela abbiamo cercato però di vedere che insomma la situazione è un pochino più complessa no? il che fa ancora capire come gli eventi veri accaduti all'inizio dell'umanità vengono talora raccontati nel libro della Genesi in forma simbolica quindi attraverso l'ausilio di segni e di immagini su cui ci devi pensare bene per andare a farti un'idea e rielaborando un po' l'insieme no? questo peccato avviene per istigazione del nemico dell'uomo che si era celato sotto le vesti famose del serpente ora dopo questa caduta primordiale succede gradualmente il finimondo i primi grandi disordini e il primo omicidio anzi fratricidio scusate di Caino nei confronti di Abele ed una successiva come si vede nei capitoli 4, 5 e 6 della Genesi spaventosa degradazione del genere umano fino a mettere in bocca a Dio nel sesto versetto del capitolo 6 si era pentito di aver creato l'uomo e fino al punto da esigere una generalizzata purificazione attraverso il diluvio universale dove viene preservata una parte eletta Noè e i suoi figli con le dadi e la moglie e poi le coppie come tutti quanti sappiamo degli animali secondo loro spese e attraverso questo diluvio c'è un nuovo inizio all'umanità stiamo seguendo il libro della Genesi Infine dopo la superbia prevaricatrice dell'uomo che aveva causato il degrado di intervenire con il giusto universale e cercare di rimettere le cose a posto però troviamo l'episodio in Genesi 11 della torre di Babbele quindi un altro tentativo prometeico di realizzare quel sogno diventare come Dio la grande tentazione dell'albero della conoscenza del bene e del male e anche questo evidentemente va in frantune ecco da cui venderà origine il popolo dell'antica alleanza a cui saranno fatte le promesse tutte adempiute poi nel salvatore nato dalla stirpe di Abramo e che avrebbe allargato ad ogni uomo di ogni razza di ogni luogo di ogni tempo la sua azione salvifica universale allora facciamo un attimo pit stop quello che è il dato rivelato è che amici cari dobbiamo fare semplicemente una scelta se vogliamo cioè la fede come ripassiamo che cos'è la fede quindi la fede è un atto innanzitutto sopranaturale perché la fede è una virtù teologale che cos'è l'atto di fede abbiamo sentito queste cose che ho detto fino adesso quindi abbiamo una rivelazione quindi qualche cosa che non è un'elaborazione della mente umana noi crediamo venire da Dio guarda che le cose sull'uomo sono andate così quindi tu se vuoi avere un'immagine riguata dell'uomo devi riconoscere l'origine perfettissima e la sua profonda dignità importanza e bellezza che deriva dal fatto di essere un'opera di Dio quest'opera però a causa dell'uomo stesso quindi non a causa di Dio ma a causa dell'uomo e della sua libera volontà è stata deturpata è stata rovinata siccome la volontà nell'uomo è un ruolo abbastanza reponerante quindi che cosa ne risulta da questa visione che a Dio dobbiamo ringraziarlo dobbiamo rendergli culto lode glorie e al tanto osannato uomo come del resto la sapienza della chiesa ha sempre fatto dobbiamo dirgli guarda che non è che c'è stato tanto da osannarti eh questo vale anche per me vale che ciascuno se lo possa potete dire anche a prima persona perché il motivo per cui io non sono più bello come avrei dovuto essere non sono più santo come avrei potuto essere non sono immortale come avrei dovuto essere non sono esente dalle malattie non sono esente dall'impero dalle passioni perché ogni tanto ci possono prendere cinque minuti anche i dieci tutto questo non viene da Dio viene da noi viene da noi dalla nostra volontà umana quindi la creazione è un'opera perfettissima l'uomo è il vertice della creazione l'opera più perfetta che Dio ha fatto di cui era innamorato che è stato sottoposto ad una prova vedete le prove nella vita sono fondamentali Dio ci mette alla prova e come? lo fa sempre gli angeli sono stati messi alla prova Lucifero è caduto e anche se quel nome gli piace tanto ancora gli piace o non gli piace da Lucifero è diventato Satana e Satana rimane Lucifero lo era ma non lo è più lo è ma non lo è perché l'ha perso e irreversibilmente l'uomo è la stessa cosa solo che l'uomo non ha come dire condannato soltanto se stesso è tutta la discendenza quanto riguarda il genere romano non li crea tutti i nostri signori come si esce da questa situazione quindi attenzione abbiamo una creazione perfettissima quindi dopo di che ci abbiamo una involuzione tra l'altro che evoluzione una caduta e una decadenza che porta ma come siamo scesi in basso talmente in basso da provocare un'azione risanatrice forte dalla parte della divinità qual è quella del di lui e da lì comincia poi una storia che porta verso il redentore perché noi invochiamo crediamo nel redentore ma perché ci riconosciamo bisognosi di salvezza tutta l'attenzione di oggi sull'uomo anche da parte di certa teologia non è causata dalla consapevolezza che questa creatura deve essere redenta deve essere salvata e quindi essere messa in contatto con Cristo perché lui il salvatore è il redentore no c'è sullo sfondo una visione dell'uomo illuminista l'uomo è buono questo lo pensava anche Pelagio veramente Pelagio aveva modo di riprendere questo discorso condannato grazie alle guerre puniche che contro Pelagio fece Sant'Agostino Pelagio diceva che il peccato originale si c'è stato ha fornito dopo la materia agli illuministi ma è semplicemente un cattivo esempio non è che il peccato si trasmette no no non si trasmette c'è soltanto quel cattivo esempio a cui si ovvia quella buona educazione quindi se tu educherai bene l'uomo e farai un perfetto esemplare bello dell'umanità se vogliamo anche un santo se ha certe idee ma è solo un problema di educazione guardate che la perdita di percezione la gente oggi io non lo so quanti ci credono ancora nel peccato originale perché se ci credessero agirebbero di conseguenza noi ogni giorno che viviamo purtroppo volenti o nolenti dei giorni si vede meglio perché se ci sono delle giornate in cui facciamo qualche caduta visibile palese quindi che non è che ci vuole che fai troppi esami di coscienza l'hai fatta e l'hai fatta ma ci sono dei giorni dove le cadute non sono palesi quindi allora mi va a dormire e dice ma oggi cavolo ho fatto tutto sommato ma che tutto sommato quale tutto sommato se quella sera ti sembra che tutto sommato è andato abbastanza bene tu il signore ti possesse un anticipo del giudizio particolare per chi ce l'ha ancora in testa gli si adrizzerebbero tutti i capelli cioè San Paolo avrebbe esposto questa cosa dice signora ma chi mi libererà da questo corpo votato alla morte io delle volte voglio fare il bene ma faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio questo combattimento interiore ma da che cosa dipende queste sono cose che noi possiamo verificare attraverso l'esperienza quotidiana qual è la prova che oggi dell'uomo non sia questa visione secondo voi qual è uno dei sacramenti più in crisi lo dico io è la confessione è la confessione perché se l'uomo è già così perfettissimo e non c'è la visione di salvezza alcuna ma che ti devi confessare che ti confessi e come tante volte ho detto in tante catechesi a meno che non ci sia qualche persona che abbia fatto un piccolo cammino di formazione io ho detto tantissime volte quando una persona quando ci sta una confessione alla terza parola che dice il penitente tu capisci benissimo se è un penitente che sta lì come dire per abitudine o perché gliel'hanno raccomandato o gliel'hanno insegnato da piccolo ma si capisce oppure se è una persona che sta lì perché ha fatto un cammino e quindi vuole accedere ad un sacramento che gli consenta di sperimentare di ricevere in sé la salvezza donata di dal Signore guardate che ci sta un abisso se l'uomo non ha bisogno di essere salvato i sacramenti non servono a niente altra spia dico sempre le stesse cose però questo è no i battesimi oggi c'è gente che non battezza più figli o qualcuno lo fa con ritardi estremi si arriva anche a 4 5 anni quando qualcuno ha un momento dice magari non l'ha battezzato subito poi interviene qualche parente gli fanno una capatanta lo esortano lo stivano e tante cose dice vabbè alla fine andiamo i battesi presentano ragazzini che già camminano ecco gli devi fare il battesimo dei bambini ma immaginate quando uno sta mettendo acqua in testa oppure gli fai funzioni con l'olio queste cose qui questo te le risponde e ti dici ma che stai a fare che fai perché fai così perché mi hai bagnato la testa secondo voi i genitori che non fanno battezzare i figli oppure lo fanno con estrema calma se tutto va bene guardate figli ogni cara oggi si battezza un bambino da 7, 8, 9 mesi se tutto va bene evidentemente nessuno pensa che in quei 7, 8, 9 mesi quel bambino se non è battezzato c'è il peccato originale che gli inerisce insegna la chiesa come proprio è un peccato trasmesso e non commesso ma capite che il peccato a livello spirituale è come se noi avessimo una cancrena a livello materiale amici se ci viene una ferita che sta infettandosi ma chi di noi è così sciocco da dire ah vabbè quando ho tempo poi la la medico se tu la ferita la lasci e si attossica e si va in cancrena che succede? domanda retorica è un anima invece che non sta in grazia? figli anima che era un bambino di 6-7 mesi quindi che è innocente che fa peccati lui no lui non li fa sul serio ma se non è battezzato secondo voi sta in grazia? è realmente un angioletto come tutti quanti lo chiamano? sono domande la crisi dei sacramenti del battesimo e della penitenza è un attestato di come svolta antropologica significa abbracciare una visione falsa perché è una visione falsa dell'uomo falsa gli uomini non sono utilizzati così bravi belli e buoni no non lo sono sono bisognosi di salvezza quindi queste due spie niente confessioni e battesimi niente o molto tardi sono spie sono spie un certo un certo ottimismo come sapete tutti quanti che con la cosiddetta svolta conciliare del famoso concilio Vaticano II tutti quanti erano noi non ci rendiamo conto io ho ascoltato qualche piccola testimonianza da chi aveva vissuto insomma le persone che hanno fatto quell'assise in un momento in cui cominciavano a decrescere i numeri della presenza dei cattolici in chiesa chi ha fatto quelle cose ci ha creduto veramente pensava di fare una cosa buona pensava che con quello si sarebbero sbloccate tutta una serie di situazioni domanda le domande bisogna sempre farsene è stato realmente così io scherzando dico sempre quando parlo con qualche persona che sta nell'ambito dell'imprenditoria dico sentimmi una cosa ma se la tua azienda va in crisi presumo che prima di farvi sbattere il fallimento cerchiate di farci qualcosa no un piano di risanamento come si chiama uno fa bene e dopo si deve verificare ha funzionato cioè l'azienda si è ripresa o no se ha funzionato bene ma se l'azienda non si è ripresa vuol dire che il piano di risanamento ha fallito ci maleva fatto tanto bene ci ha creduto ho capito ma se l'azienda non si risana il piano ha fallito io spostiamo l'attenzione sul piano ecclesiale io non voglio fare il polemico hanno funzionato tante cose c'è stata una crescita a livello qualitativo quantitativo della vita cristiana io può darsi che vivo in un altro mondo per carità non voglio assolutamente dire niente non voglio però tante cose non si vedono ecco quindi un altro piccolo step sul primo capitolo è un'occhiata dopo aver passato in assegna velocemente perché appunto già fatto nel ciclo di catechesi due anni fa dare un'occhiata ai primi concili cioè il concilio di Orange nel 418 e il concilio scusate il concilio di Cartagine nel 418 e il concilio di Orange del 529 questi sono i primi due grandi concili antropologici e vedremo questi sono dediti occupati a puntualizzare la dottrina cattolica sul peccato originale ma c'è stato però un concilio che è la Derenze IV altro concilio dogmatico e bellissimo del 1215 che è intervenuto a proposito della creazione dell'uomo io a questo punto vorrei fare una piccola citazione eh tratta dal Densinger numero 800 per chi ce la volesse andare a controllare dice il concilio appunto la Derenze crediamo fermamente e confessiamo che il solo unico e vero Dio con la sua onnipotente virtù insieme all'inizio del tempo ha creato dal nulla l'una e l'altra creatura quella spirituale e quella materiale in certo modo partecipe di entrambe composto di anima e di corpo scusate creato da nulla l'altra natura quella spirituale e quella materiale cioè gli angeli e il mondo e poi l'uomo scusate che ho saltato un rigolo in certo modo partecipe di entrambe cioè la parte spirituale e la parte materiale composto di anima e di corpo il diavolo infatti gli altri demoni sono stati creati buoni per natura ma sono diventati malvagi da se stessi e l'uomo ha peccato per suggestione del diavolo attenzione questo è un concilio dogmatico per cui all'inizio del tempo ha creato dal nulla l'una e l'altra creatura quella spirituale e quella materiale gli angeli e il mondo noi che facciamo con questo dato? possiamo dire vabbè c'è questo dato però adesso c'è l'evoluzione dobbiamo dobbiamo fare i nostri principi dell'evoluzione dico si può dinanziare un'affermazione di questo genere all'inizio del tempo Dio ha creato dal nulla l'una e l'altra creatura creato dal nulla vedete il termine tecnico creare dal nulla ecco perché è sempre bene a mio avviso non parlare di natura non parlare di ambiente adesso c'è sono ottimati gli allarmi per l'ambiente il clima sempre meglio parlare del creato e è sempre meglio parlare del creato però come ce lo insegna la rivelazione sapete che anche il creato anche la realtà creata che sta fuori di noi ha subito una degradazione in peggio a seguito del peccato dell'uomo questo scrive San Paolo la creazione stessa attende con impazienza la liberazione dei figli di Dio e si è stata sottomessa alla caducità non per suo volere ma per volere di colui che l'ha sottomessa quindi c'è questo concilio che parla abbastanza chiaramente c'è un altro testo magisteriale già accennato di Pio XII stavolta in cui si condanna l'errore oggi molto diffuso a causa delle tesi darwiniste del poligenismo ossia l'idea che il genere umano possa derivare non da un solo progenitore Adamo ma da più ceppi di discendenza e anche qui cito testualmente dell'Umani Gene disse stavolta nel 1950 il sommo pontefice dopo aver in certo modo aperto allo studio dei sani dati oggettivi provenienti dalla scienza autentica ammonisce in qualche modo in questo modo teologi e fedeli alcuni agiscono come se fosse già dimostrata con totale certezza l'origine del corpo umano dalla materia organica preesistente valendosi di dati indiziali finora raccolti di ragionamenti basati su medesimi indizi e ciò come se nelle fonti della divina rivelazione non vi fosse nulla che esiga in questa materia la più grande moderazione cautela questo sarà vero sempre cioè quando noi abbiamo un dato rivelato prima di andare ad abbracciare come si regge nel nuovo testamento dottrine varie per il dobbiamo stare attenti dobbiamo stare però quando si tratti dell'altra ipotesi cioè del poligenismo allora i figli della chiesa non godono affatto della medesima libertà i fedeli non possono abbracciare quell'opinione cui assertori insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla terra veri uomini che non hanno avuto origine per generazione naturale dal medesimo come progenitore di tutti gli uomini oppure che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori non appare in nessun modo come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della liberazione e gli atti del magistero della chiesa insegnano circa il peccato originale che proviene ad un peccato veramente commesso da Adamo individualmente e personalmente Adamo non è una figura leggendaria non è una figura simbolica è realmente esistito e ha commesso un peccato individuale e personale che è trasmesso a tutti per generazione ed è inerente a ciascuno come suo proprio vedete com'è bello quando parla chiaramente il magistero della chiesa quindi il pontefice esorta ad essere cauti nell'accogliere quei dati diciamo tra virgolette scientifici perché poi bisogna vedere se scienza o pseudoscienza di per sé non formalmente contrarie alla liberazione Dio può Dio può di un'accogliere di un'accogliere di un'accogliere di un'accogliere ma l'uomo ma l'uomo è decaduto si trova in una condizione particolare è bisognoso di retenzione è bisognoso di grazia in continuazione se uno vuole diventare santo come vedremo ci si può diventare santi è certo ma non è un gioco diventare santi ma non è uno scherzo perché bisogna fare il pieno di grazia Maria piena di grazia bisogna lavorare in continuazione quindi se questa se cade la dottrina sul peccato originale cade con lei gran parte della dottrina dell'uomo ma cade anche gran parte della dottrina su Cristo che è venuta a fare il Signore sulla terra sulla chiesa sui sacramenti addirittura sui novissimi circo di catechesi dell'anno scorso se devo fare il libro di prossima pubblicazione che siamo quasi pronti ma capite se cadono tutte queste cose con tutte queste cadute sapete che succede che cade in gran parte della nostra santa e divina fede cattolica e allora poi si hanno situazioni comportamenti dice ma ma quello è ma sembra che non ci crede ma certo che non ci crede cioè quello che di fulano è il cuore non si può sapere da quello che si vede all'esterno tutto sembra meno che ci credi però di questo amici parleremo se ti vuole la prossima volta di cui benedica e la madonna sempre vi protegge è il cuore che si vede